E cambiamo ora argomento, andiamo in diretta a Lecce dove c'è la collega Maria Teresa Carrozzo per la presentazione di 5 mezzi consegnati a SGM per la mobilità sostenibile. Intravedo nel preview la collega in compagnia del sindaco Adriana Polibortone. Maria Teresa buon pomeriggio a te, a voi. Buon pomeriggio Valentina, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Siamo qui in Largo Settellacquare, come vedete alle nostre spalle 4 mezzi dei 5 che arriveranno a breve qui a Lecce per potenziare quello che è il trasporto pubblico in forza alla partecipata SGM di Lecce. Al mio fianco il sindaco Adriana Polibortone che ringraziamo per la disponibilità. Sindaco, una conferenza stampa proprio tra la gente per presentare quello che sarà il servizio pubblico a disposizione dei Leccesi e non solo. Certo, l'ho voluta proprio qui insieme con Dautilia, col presidente dell'SGM perché innanzitutto volevamo invitare anche tutti quanti gli altri, perché questo è un progetto che viene dal passato, quindi era giusto che ci fosse la regione, che ci fossero tutti coloro che avevano già partecipato. Un progetto che comunque abbiamo apprezzato moltissimo e che va condiviso e fatto conoscere alla cittadinanza perché questo tipo di mezzi possono naturalmente agevolare i trasporti all'interno della città e sono dei mezzi che andranno utilizzati essenzialmente proprio nelle parti più periferiche della nostra città che sono quelle più penalizzate attualmente. Ci consentiranno anche di abbreviare i tempi di percorrenza e oltretutto anche di avere più persone. Noi d'ora in poi siamo fortemente impegnati sul tema dell'utilizzo del mezzo pubblico che davvero agevolerà tutti quanti i cittadini. Grazie mille sindaco Adriana Polibortone. Valentina, come vedete Francesco vi farà vedere tutti quelli che sono gli esponenti regionali presenti, c'è anche l'assessore alla mobilità, i consiglieri e adesso sentiamo una parola del presidente di ESGM, dottor Damiano Dautilia. Presidente, una sfida quella che state lanciando, proprio quello che è il messaggio ecosostenibile? Sì, è una sfida importante e riteniamo di poterla vincere. Oggi si conclude ma si apre nello stesso tempo un iter importante. Si conclude perché oggi vengono consegnate alla città cinque pullman a metano che sono ad impatto ambientale zero, efficienti, e diciamo rispondono a delle esigenze di comfort che fino ad oggi ESGM non poteva garantire per una questione ovvia di flotta obsoleta. Quindi oggi si chiude un percorso che è iniziato con la regione, l'amministrazione comunale l'anno prossimo si doterà di sei autobus a trazione elettrica, completamente elettrica, quindi noi possiamo dire che 11 mezzi, euro 3, verranno sostituiti da mezzi euro 6. Quindi noi abbiamo degli obiettivi, quello di rispondere alle esigenze di natura ambientale, perché non è una questione solo legata a chi utilizza il mezzo, ma a chi lo subisce a volte, quindi al cittadino che per strada subisce la presenza di questi automezzi. Grazie mille il Presidente Damiano D'Autilia, come vedete al suo fianco i componenti del Consiglio di Amministrazione. Valentina, ti ripasso la linea in studio, ovviamente daremo gli approfondimenti nelle prossime edizioni del Tg. Grazie, grazie a Maria Teresa.